Il ristorante Perlita dove abbiamo appena mangiato una specie di zuppa dentro un cocco e il camarone ha seguito il signor Laura. Questa è la veranda direttamente sul mare, lì giù c'è il Veracurso, la spiaggia di questo paese in strada spiaggia, con sabbia compatta, nera, sempre bagnato ci si avviene, come sono. Questo lo sciolettino minore è qui vicino e ridorno allo sciolettino principale, Perlita.